Vittorio Mangano, vabbè capita, errore di gioventuti, serve uno stagliere e prendi quello che viene. Licio Gelli, succede, sembrava una brava persona, poi il fascino del cappuccio è irresistibile. Bettino Craxi, sembrava un grande statista, ha tralignato come fai a prevederlo. Cesare Previti, facile scambiarlo per un buon avvocato, soprattutto se non hai letto Cesare Lombroso. Marcello Dell'Utri, era dell'Opus Dei, aveva tanti amici siciliani, ti confondeva con tutti quei libri antichi, molto colto, soprattutto sul fatto, ha più processi che capelli in testa, ma anche Gramsci, insomma, pure lui è finito nei guai con la giustizia. Renato Squillante, insomma, ti accusano di avercela con tutti i giudici, poi te ne piace uno e te lo arrestano subito. Giampi Tarantini, amicizia sbagliata, può sempre capitare, viene da te un giovane imprenditore che si è fatto da solo, in tutti i sensi, come fai a pensare che uno che va in giro con 20-30 ragazze alla volta faccia quel mestiere lì? Era proprio insospettabile. Aggiungi che le sue ragazze appena entravano a Palazzo Graziolo e Viglia Certosa, tac, si innamoravano subito del Latin Lover, folgorate dallo charm del Playboy, se poi Giampi dopo le pagava, mica te lo veniva a dire, era a sua insapute comunque per le spese di viaggio, l'indenità di trasferta. Valter Lavitola, primo a Chito, ti sembra subito un fine diplomatico, gli manca solo la Feluca, a Panama e a Saint-Lussia, almeno lì lo conoscevano tutti, capita a tutti di sbagliare la valutazione. Lele Mora, ma dico io, come fai a sospettare che uno 20 anni fa condannato per spaccio sia un poco di buono? La redenzione dell'essere umano ci sta sempre. Rubi Rubacuori, appena la vedi quella ti viene subito in mente una parente di Mubarak, sono proprio due gocce d'acqua e poi la tipica faccia di una che vuole aprire un centro estetico per cui compri il laser antidepilazione, non pro depilazione, antidepilazione, da 60 mila euro, Nicol Minetti, quella invece appena la vedi ti viene subito in mente l'igiene dentale e la plurilaureata e poi mica l'ho candidata io. L'hanno fatto tutto cinque scrutatori senza farmela nemmeno vedere e chissà cosa scrutavano. Totò Cuffaro, Totò Cuffaro l'ha scoperto Casini, però poi lo condannano per favoreggiamento alla mafia e tu cosa fai? Glielo lasci, ma no, ti viene un attacco pazzesco di gelosia e glielo freghi e la stessa soddisfazione che prova il tifoso del Milan il giorno del derby quando riesce a fregare la bandiera all'ultra dell'Inter. Francone Fiorito, detto Air Batman de Anagni, era finiano ma non si poteva lasciarlo alla concorrenza. Basta guardarlo, è il tipico liberal democratico di scuola inaudiana dove lo metti uno così capogruppo alla regione Lazio, come minimo. L'hanno arrestato, vabbè, ma anche Giordano Bruno ha avuto i suoi guai con la giustizia e questo è soltanto un piccolo campionario del ritratto di famiglia perché se no facciamo notte. Ecco, cavalieri, io premetto che penso che siano tutti innocenti, anche i condannati, anche gli arrestati, anche quelli che patteggiano, anche lei, anche se ha avuto sette prescrizioni, un'amnistia, tre volte si è depenalizzato il suo reato e poi ha quella condannina in primo grado che però andrà sicuramente meglio in appello per frode fiscale. Però non so se è presente il film di Mel Brooks, Mezzogiorno di Fuoco, c'è il cattivo che deve arruolare la sporca dozzina per dare l'assalto al villaggio di Rock Ridge. Si siede dietro il banchetto e esamina i curricula degli aspiranti candidati in fila indiana davanti a lui e dice, precedenti penali? Il primo risponde, stupro, assassino, incendio doloso, stupro. E lui, hai detto due volte stupro? E lui, sì, ma mi piace tanto lo stupro. Ottimo, firma qua, arruolato. Avanti il prossimo, precedenti penali, atti di libidi nel luogo pubblico. Non è mica tanto grave. Sì, ma in una chiesa metodista. Ah, beh, carino, arruolato, firma qua. Ecco, a volte viene il sospetto che lei, la sua classe dirigente, i suoi candidati li selezioni. Pressa poco così. Ora, se l'immagina Obama, la Merkel, Cameron, fotografati accanto a uno solo dei personaggi che abbiamo citato prima, adesso, per carità, meritoriamente lei promette liste pulite, rinnovate al 90%, forse non trova posto nemmeno per quel sant'uomo di Dell'Utri. E terra fuori, dice lei, chi ha più di 65 anni, chi ha processi in corso e chi non si impegna ad andarsene dopo due legislature. Ora, a parte che lei di anni ne ha 76 processi, non si è mai fatto mancare niente e si candida per la sesta legislatura. Ma che senso ha oggi eliminare gli imputati e i condannati? Se li elimina vuol dire che si fida della magistratura o almeno che la rispetta. Quella stessa magistratura che dice lei, esagerando un po', mi ha sempre assolto. Quindi va rispettata sempre, anche quando condanna lei o qualcuno dei suoi, perché non è che si può rispettare a targhe alterne. Ci sono impresentabili in tutti i partiti, non è questo il problema. Però lei, vent'anni fa, è entrato in politica per rinnovare la classe dirigente, per fare la rivoluzione liberale, per essere diverso, per essere migliore dei politicanti, per portare la gente competente della trincea del lavoro. E infatti nella sua prima campagna elettorale del 94, oggi sembra incredibile, ma faceva firmare agli aspiranti candidati di Forza Italia questa dichiarazione giurata. Dichiaro, uno, di non avere carichi pendenti. Due, di non avere ricevuto avvisi di garanzia. Tre, di non essere stato e di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non avere a mio carico precedenti procedimenti in corso. E quando vinse le elezioni, tentò subito di avere come ministro dell'interno il simbolo di Mani Pulite, di Pietro, mentre la russa tentava di convincere un altro magistrato di Mani Pulite, Davigo, a fare il ministro della giustizia. Poi è emersa un'altra foto di gruppo, quella che abbiamo sintetizzato prima. Quindi o è sfortunato nelle amicizie, oppure gli impresentabili li attira come la carta moschicida, o perché le somigliano, o perché vogliono somigliarle, o perché dal cattivo esempio, allora forse ogni tanto magari chiedere scusa per qualche errore di valutazione. Ecco, io glielo confesso, sono vent'anni che aspettavo di intervistarla su ciò che ha detto e ha fatto in questi vent'anni. Ma adesso, preparandomi, non mi è venuta proprio nessuna domanda, perché penso che la cosa più grave non è in questi vent'anni quello che lei ha detto e ha fatto, ma è quello che non ha detto e non ha fatto, oppure non ha potuto dire e fare. Poteva chiedere verità totale sulle stragi di mafia, le stragi politico-mafiose, o forse non lo poteva fare. Poteva dire alla gente che le tasse non sono alte perché lo Stato ci mette le mani nelle tasche, ma perché molti non le pagano, invece bisogna pagarle tutte e chi non le paga non è un furbo da invidiare o da condonare, ma un ladro da punire, da detestare perché deruba 120 miliardi di euro all'anno agli onesti che le pagano. O forse non poteva dirlo. Poteva dire che chi paga o prende le tangenti, non va candidato, va isolato e punito perché ci ruba ogni anno 60 miliardi di euro. O forse non poteva dirlo. Poteva dire che la mafia non va combattuta, va sconfitta proprio. E per sconfiggerla non bisogna accettare i voti dalla mafia, non bisogna nemmeno chiederli. O forse non poteva dirlo. Poteva dire agli italiani che le leggi e la Costituzione bisogna rispettarli, non cambiarli ogni volta proprio uso e consumo. O forse non poteva dirlo. Pensi se l'avesse fatto per 20 anni come sarebbe bella, pulita, prospera, ricca, presentabile la nostra Italia. Invece abbiamo perso 20 anni. Lei ha speso tutte le sue energie, la sua potenza mediatica, la sua influenza sulla gente a combattere non tanto le mafie, le evasioni e le corruzioni, ma soprattutto chi combatteva le mafie, le evasioni e le corruzioni. Se non avessimo perso questi 20 anni e tutti questi miliardi, lo sa lei oggi quante imu potremmo togliere dalla prima, dalla seconda e anche dalla terza casa? Ecco proviamo a fare il calcolo. Ci verrà a piangere a tutti noi e forse persino anche a lei. Allora Marco, cambiatevi di posto.